Beh ragazzuoli vi dico la verità, mi piacerebbe veramente tanto parlarvi di possibili nomi di mercato che la Juventus potrebbe prendere magari addirittura in questa sessione di calcio mercato, poi però si entra nel magico mondo della realtà e ad oggi la cosa strana è che non ci sono neanche accostamenti di mercato, spesso e volentieri, anche in stagioni passate, in sessioni di calcio mercato precedenti, vedevamo, leggiavamo costantemente nomi su nomi accostati alla Juventus già addirittura per gennaio. Quest'anno magari per una serie di motivazioni c'è nemmeno i giornalisti, si stanno spingendo così tanto in là, nemmeno loro che in un qualche modo devono vendere e quindi no, accostando magari nomi interessanti, qualche click lo fanno, non lo fanno, neanche loro si stanno spingendo a tanto, quindi a noi che cos'è che rimane da fare? Parlare di quelle poche notizie che ci arrivano, che ci giungono, che in un qualche modo servono anche quelle, per l'amor di Dio, a una possibile Juventus del futuro e quindi se non lo puoi fare con giocatori in arrivo, puoi cercare di farlo con giocatori che sulla carta sarebbero in partenza, in questo caso in scadenza, ma che magari con un'offerta di rinnovo ci potrebbe essere la possibilità di continuare a vederli con la maglia della Juventus anche per la prossima stagione e il nome che va un pochino di più in voga vedendo l'elenco dei giocatori che sulla carta termineranno il loro contratto con la Juventus il 30 giugno 2023 è indubbiamente quello di Adrien Rabiot e già diverse volte abbiamo trattato questo argomento, no? e la notizia nuova, la notizia fresca dove ovviamente bisogna prenderla con le pinze al massimo è quella legata a fin dove la Juventus sarebbe disposta pur di accontentare quantomeno il più possibile Adrien Rabiot perché oggi appunto la notizia è che ok che sappiamo che nei prossimi giorni comunque ci sarà un incontro tra Cherubini e mamma Veronique e a questo incontro pare, lasciamo ovviamente sempre il beneficio del dubbio ci mancherebbe altro che la Juventus comunque formulerà la sua offerta per cercare in un qualche modo di tenere Rabiot dato che è considerato sempre più imprescindibile e da questo punto di vista capisco pienamente ormai quando vediamo, non vediamo, vediamo Rabiot in campo con la maglia della Juventus è veramente l'opposto di ciò che pensavamo prima ma quando agli inizi vedevi i ravioli in mezzo al campo e dici in bocca al lupo va a capire che cosa combinerà oggi no, fortunatamente la situazione è praticamente agli antipodi l'unica differenza anche abbastanza importante è che quella volta magari aveva 2-3 anni prima della scadenza del contratto che dicevi cazzo ma quando arriva il 2023 che non lo voglio più vedere neanche per sbaglio con la maglia della Juventus e adesso magari all'idea di privartene a maggior ragione poi gratis insomma non dico che ti fa mettere a piangere ma indubbiamente ti fa quantomeno un minimo tirare il culo questo comunque non ce lo possiamo negare ma tornando invece a noi l'offerta che magari secondo la Juventus potrebbe convincere il giocatore e la mamma a dir di sì qual è che è? si parla di 7 milioni che comunque non sono proprio come i 7 milioni attuali o meglio per carità il giocatore a fine mese percepisce sempre quella cifra lì però la Juventus attualmente sta usufruendo del decreto crescita e sicuramente un'offerta di 7 milioni senza decreto crescita comunque ti spostano qualche milioncino a livello di stipendio lordo indubbiamente più dei bonus dato che sappiamo che in teoria la richiesta del giocatore è quella di percepire 10 milioni netti e la Juventus magari pesa oh che ne sai considerando che comunque l'ambiente lo conosce il campionato lo conosce sa di essere imprescindibile sa di essere un cocco di allegri se al posto di offrirli 10 milioni netti anche perché non è che ci siano tutte queste grandissime possibilità gli offriamo 7 milioni più bonus magari oh magari accetta magari comunque prende di buon grado questa questa offerta questo sforzo comunque economico non banale anche perché oltre a tutto questo da quello che si dice pare ci potrebbe essere un bonus alla firma per il giocatore e io posso capire che molti potrebbero dire ma non è un po' troppo dato che molti anche in modo legittimo non nego che in parte questa paura ce l'ho anch'io dicono no sta a vedere che se questo qui rinnova torna ad essere il rabbio precedente un pochino di scaga ce l'ho anch'io da questo punto di vista lo ammetto lo ammetto non lo nego ce l'ho un pochino onestamente anche io ce l'ho perché dici sta da veda che adesso no fa il fenomeno per attirare le attenzioni di mezzo Europa o firma con un'altra squadra o trova il rinnovo con la Juventus sta a vedere che torna il rabbio precedente spero di no onestamente è anche difficile quanto meno mi auguro ecco ovviamente a parte che poi tocca vedere anche come andrà avanti con la Juventus questa storia qui perché ok questa pare essere l'offerta della Juventus per cercare di convincere il giocatore poi quale sia la sua volontà non la sappiamo magari lui dice o io dai dieci netti non mi schiodo e se non me li dai vado altrove magari semplicemente ha già delle avance anche abbastanza importanti a livello di club o anche a livello semplicemente economico da parte di altri club quindi la sua testa è comunque lontano da Torino però di fatto questo è poi c'è sempre il tema legato al fatto che non sarebbe magari meglio puntare sui giovani che ti stanno venendo su a centrocampo o magari invece che dare queste cifre astronomiche rabbio magari prendere qualcuno sul mercato da far crescere con l'augurio che possa sbocciare ragazzuoli dopo lì ognuno giustamente al proprio pensiero e alla fine ogni pensiero in un qualche modo è legittimo se uno magari dice beh comunque a partire dal primo di luglio fino a prova contrario stando a quella che è la situazione attuale lì in mezzo al campo avremo meccenni locatelli fagioli miretti pogba non nomi che ti facciano particolarmente venire i brividi magari soprattutto quelli di locatelli e meccenni però dici dato che comunque qualcuno no sta venendo su anche di particolarmente interessante senza considerare il rientro dal prestito di rovella perché magari spendere queste cifre esorbitanti per rabbio quando ci sarebbe comunque la possibilità di investire su altro se non magari già se magari non proprio su elementi già presenti all'interno della rosa sul mercato con cifre differenti con cifre un pochino più basse attuando magari un'operazione di scouting tutto è giusto è per l'amor di dio tutto è legittimo e allo stesso tempo è condivisibile vedremo anche una volta che rientrerà in campo pogba dove effettivamente verrà messo all'interno del campo se a sinistra nella zona attualmente ricoperta in modo ben più che decoroso da rabiot oppure magari a destra no e magari poi può entrare nell'ipotesi che comunque i due sulla carta potrebbero convivere come al solito ci sta l'idea del ma con la cifra totale che noi andremo a risparmiare col rabbio chi riusciremmo ad andare a prendere sul mercato con lo stesso valore e la stessa imprescindibilità dopo lì ovviamente sono tutte dinamiche che naturalmente avvengono nel momento in cui decidi di proporre un rinnovo a certe cifre ad un giocatore e quello che succederà lo scopriremo ovviamente solo vivendo certo è che per l'ennesima volta giustamente ci si potrebbe anche porre il dubbio su quella parolina magica chiamata programmazione perché è sempre legittimo e giusto anche ricordarsi che fino a prova contraria verso luglio 2022 era praticamente tutto fatto tra il Manchester United e Adrian Rabiot e se non fosse stato o per il rifiuto del giocatore o perché lo United ha realmente capito che avrebbe potuto prendere Casemiro tu a Rabiot gli avresti fatto ciao ciao con la manina con un sorriso a 54 denti 5 mesi dopo 6 mesi dopo ti ritrovi qui ad ipotizzare quanto sarebbe più scarsa una Juventus senza Rabiot quindi insomma magari ci sarebbe come al solito da porsi dei dubbi a livello progettuale capisco anche le dinamiche di mercato perché fino a prova contraria ti era arrivato un'offerta da quasi 20 milioni per un giocatore ad un anno dalla sua scadenza anzi a meno di un anno sulla carta però dici cavoli pensa se fosse davvero andato in che situazione magari ci saremmo ritrovati in questo momento e non puoi dire se migliore o peggiore puoi dire però indubbiamente che sarebbe stata una situazione indubbiamente diversa però di fatto tutto qui nei prossimi giorni a sto punto dato che il mercato ridendo e scherzando finirà tra relativamente poco per il club di Serie A non è mai realmente iniziato però sulla carta finisce tra relativamente poco e probabilmente ci saranno degli aggiornamenti in più riguardo questa situazione e considerando che si parla di un giocatore imprescindibile per questa Juventus è indubbiamente una situazione da monitorare anche con parecchia attenzione voi come al solito fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve ciao 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 ciao